Oggi la giornata europea dei giusti dell'umanità. Esattamente un anno fa Salerno è stato aperto su iniziativa della Fondazione Menna, il giardino dei giusti dell'umanità, negli spazi antistanti la scuola elementare Barra in via Lungomare Trieste. Un'iniziativa che da tempo non è più circoscritta soltanto al dramma della Shoah, ma a tutti coloro che si prodigano per difendere la dignità umana. La Fondazione Menna ha ritenuto che la figura e l'opera di Marco Cappato rispondesse oggi a ciò che va inteso come giusto dell'umanità e nel suo caso come giusto della libertà, libertà fino alla fine della vita. Proprio l'aspetto delicatissimo dell'eutanasia è stato affrontato da Filomena Gallo, presidente dell'associazione Luca Coscioni. In un paese dove ci sono ancora tanti diritti da riconoscere e affermare, la giornata di oggi è una giornata importante, richiama un simbolo che ricorda il rispetto delle libertà e ci porta alla memoria fatti che tutti vorremmo dimenticare che sono legati alla seconda guerra mondiale. Oggi qui un riconoscimento a Marco Cappato ad un'attività che con l'associazione Luca Coscioni e Marco Cappato in prima persona con una disobbedienza civile va avanti per affermare la libertà di scelta nelle scelte di fine vita. Un processo ancora in corso, sospeso, la Corte Costituzionale che ha chiamato in campo il Parlamento affinché ci sia una legge per la legalizzazione dell'eutanasia. Il Parlamento che ha iniziato i lavori e subito li ha interrotti. Non so se questo paese riuscirà a dare agli italiani, che sono più della maggioranza degli italiani, a volere una legge che legalizzi l'eutanasia. Ascoltiamo Marco Cappato. Il Parlamento sta discutendo finalmente, dopo 40 anni dalla prima proposta di Loris Fortuna, sulla legalizzazione dell'eutanasia, che significa battersi non per la morte ma per la libertà di ciascuno. Essere liberi di scegliere fino alla fine della propria vita, anche nella sofferenza, anche nella condizione di malattia terminale. La scelta non è eutanasia sì e eutanasia no. La scelta è tra eutanasia clandestina, cioè realizzata senza nessun tipo di garanzie e quindi di fatto esposta al massimo di abusi possibili, e invece eutanasia legale, cioè con tutti i controlli medici per ridurre per quanto possibile la sofferenza delle persone e magari anche prevenire delle richieste di eutanasia che magari a volte sono soltanto richieste di aiuto.